L'Expo di Lombardo l'anno scorso è cresciuto dell'11,6%, raggiungendo un valore complessivo di 270 milioni. La Regione Lombardia partecipa a questa Vinitaly con un contributo, ma soprattutto abbiamo dato un bel po' di soldi, 450 mila euro per la promozione dei prodotti agroalimentari lombardi. Sono un'eccellenza anche in vista di Expo, quindi domenica la Lombardia sarà presente come deve essere presente, cioè con i suoi prodotti eccellenti e eccezionali. E appunto in vista anche di Expo un rapporto ancora più stretto, ancora più importante con la scala di Verone come in Italy? Sì, certamente Expo sarà una straordinaria occasione per mostrare quanto di buono sappiamo produrla e i nostri stili di vita e la partecipazione a Vinitaly in vista di Expo è un appuntamento assolutamente da non perdere. Come risponde l'NCD che oggi è stato in congedo? Sono a Roma per una riunione politica. Però loro hanno quindi un congedo per motivi personali, forse Parolini dice c'è poco coinvolgimento da parte, vogliono dei posti. Marzo è finito, non è stato fatto. Marzo è finito, su questo concordo, sì, marzo è finito ieri, oggi è il primo di aprile. Che io sappia sono in congedo per motivi politici, quindi oggi sarà la loro mozione, mi spiace che si discuta della loro mozione senza di loro, ma io ho dato indicazioni che non sono affatto contrario a coinvolgere la Commissione su un tema così rilevante per loro e per tutti. Noi abbiamo le nostre idee, le nostre convinzioni, se la richiesta è di portare in commissione cose che peraltro abbiamo fatto già ieri, non ho nessunissima obiezione, quindi siamo favorevoli a questa mozione con un accorgimento, cioè togliere il riferimento all'articolo 42 dello statuto che non c'entra niente, ma per il resto io sono sempre per il massimo dibattito. Però loro, oltre alla mozione su Fondinasco, contestano anche il fatto che non sia stata riequilibrata la Giunta come era stato. Riequilibrata la Giunta cosa è? Ma risposta politica che non fa, ho capito. E che invece adesso ci si fa. Ho letto ieri sera il testo uscito dal Consiglio dei Ministri, ci sono alcune modifiche migliorative, per esempio è stato tolto il trasferimento a Roma della protezione civile, così mi è parsa di capire, è stata una prima lettura un po' frettolosa e questo è bene, era una cosa che mi preoccupava molto. Dall'altra parte c'è un peggioramento della procedura che consente alle singole regioni di ricevere e di acquisire competenze che sono trasferite allo Stato, cioè il federalismo istituzionale perché richiede la maggioranza assoluta dei membri della Camera. Questo peggiora un po' questa prospettiva, però mi riservo di approfondire il testo, ma quasi tutte le richieste delle regioni sono state comprese. Spero che il Parlamento presti attenzione. Mi sta bene il Senato non elettivo, mi sta bene il Senato delle autonomie e la proposta che abbiamo fatto come regioni, quindi complessivamente il testo, salvo alcune modifiche migliorative, non è un brutto testo. Invece la regione ieri ha scritto delle lettere, consigliere chiedendo i rimborsi dei soldi contestati dalla Corte dei Pugli. Io ho scritto una lettera su richiesta della Corte dei Conti, la Corte dei Conti mi ha chiesto di mandare questa lettera a un elenco di consiglieri per interrompere la prescrizione, per metterla in mora, cosa che ho fatto perché come legale rappresentante sono tenuto a dare attuazione a questa richiesta della Corte dei Conti.